Pier Paolo Pretelli e Giulia Salemi in vacanza a Maratea. La coppia torna a casa del modello Lucano. I prelemi fanno ritorno a Maratea. Pier Paolo Pretelli e Giulia Salemi, sono pronti a iniziare una nuova avventura da genitori, ma intanto si godono gli ultimi assaggi di estate prima di tornare a dedicarsi al lavoro, dove i progetti non mancheranno di certo. Nelle scorse ora la coppia di ex concorrenti del Grande Fratello ha deciso di godersi le meraviglie di Maratea, città natale dell'ex velino di Striscia la notizia. Tra un tuffo e un gelato i due piccioncini si sono rilassati in Basilicata, location nella quale i prelemi tornano con frequenza per salutare i familiari di Pretelli e immergersi nelle meraviglie che la regione offre a sempre più turisti negli anni. E la crisi affrontata in passato è solo un triste ricordo per la coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello, che con grande onestà ha ammesso di aver affrontato dei momenti di grande crisi in cui la rottura sembrava essere in quei giorni la soluzione più idonea per entrambi. Abbiamo capito che avevamo due strade, uscirne vincenti o sconfitti, quando non ti senti realizzato e gratificato è facile riversare il nervosismo e la frustrazione sulla persona che hai a fianco, ed è per questo che a un certo punto ci siamo chiesti come fare per risolvere i nostri problemi, hanno ammesso i prelemi nel corso di una intervista a Vanity Fair.